Ciao Mariners e benvenuti in un nuovissimo video! Come vedete ci troviamo fuori perché oggi ho deciso di fare un video sulle tipologie di camminate Non so se anche voi ci avete mai fatto caso ma ognuno di noi ovviamente cammina in una maniera diversa e quindi ho deciso di farci un video Se non l'avete ancora fatto vi ricordo di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella vicino al tasto di iscrizione Se alla fine del video il video vi è piaciuto mi raccomando lasciatemi un like e un commentino qui sotto E se vi va seguitemi su tutti gli altri social Instagram, TikTok e Facebook Partiamo subito! Venite con me! Ciao ragazzi! Io sto facendo una passeggiata, qua c'è un sole pazzesco, oddio! Ho dimenticato gli occhiali da sole! Vabbè comunque vi stavo dicendo! Qua mi dice che l'ho già passata Allora scusi scusi Viale Papiniano Allora bella lunga E dice E lui è lontano no? Deve andare da quella parte Prenda tutta la via Grazie scusi sono in ritaglia Grazie Oh scusa, 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 oddio scusa, scusa Guarda dove vai Grazie a tutti! 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 Grazie.